C'è ancora spazio per fare luce su quella vicenda? Certamente, sia sul piano penale ma anche sul piano della responsabilità. Ci sono anche procedimenti disciplinari e quella politica, perché ascoltare la registrazione di quello che è successo in quelle ore è insopportabile. Sono stati trattati come un problema burocratico e non come persone che rischiavano veramente la vita. Ovviamente anche su Malta bisogna aprire finalmente un procedimento di responsabilità, perché non si può stare nella UE a convenienza. E' sinora Malta ha giocato un ruolo assolutamente inconsistente sul piano dei soccorsi e anche sull'accoglienza di quei pochi che accoglie, ci sarebbe molto da dire. Da sindaco di Lampedusa mi sono costituita parte civile come comune nel processo sulla strage del 3 ottobre. E siamo riusciti ad avere due condanne. Penso che sia la prima volta che una istituzione si sia costituita parte civile. E il lavoro che è stato fatto da questi giovani magistrati di Agrigento è incommiabile. E la sentenza, quella sentenza è importante, perché dice che coloro che attraversano il Mediterraneo in quelle condizioni sono vittime di tratta di esseri umani. E quindi il reato è tratta di esseri umani oltre che di strage. Nel frattempo però i naufragi continuano. La strage delle 26 donne nigeriane e da parte dei libici c'è un atteggiamento che lei come valuta? Le immagini anche dell'ultimo naufragio sono terrificanti o no? E' l'atteggiamento di un paese, di un governo, di un popolo che non ha mai firmato la Convenzione Universale dei Ditti dell'Uomo. Questo è un tema che il nostro governo dovrebbe prendere assolutamente in considerazione. Si comportano in mare, si sono comportati in mare come tutti sospettavamo e come si comportano nella detenzione dei migranti e dei profughi nei campi della Libia. Non possiamo chiudere gli occhi su questo. Abbiamo fatto un errore a delegare troppo della politica migratoria per non farle arrivare ai libici da parte di questo governo e del ministro Minniti, secondo me? Il ministro Minniti voleva raggiungere dei risultati che forse la maggioranza degli italiani si aspettava. E' questo il vero tema, è quello di ribaltare la percezione che le persone, che i cittadini hanno di una finta invasione, di un dramma che invece viene percepito come un'invasione. Quello su cui dobbiamo impegnarci è questo. Certamente noi siamo i frontalieri rispetto alla Libia, l'Europa ha abbandonato completamente l'Italia, ma l'Italia non può accettare ancora di sacrificare in mare le persone che l'Europa non vuole, assolutamente no. Grazie a tutti.